Musica per non dimenticare. Il 27 gennaio alle ore 21 l'orchestra sinfonica Rossini salirà sul proscenio del teatro sperimentale per un concerto dedicato al giorno della memoria attraverso musiche di Rizzo Ortolani, Paul Gilson e Roberto Molinelli che nell'occasione dirigerà il sassofonista di fama internazionale Gaetano Di Bacco. Credo sia importante questa sorta di prescrizione a ricordare, a pensare, a ragionare e a non farsi travolgere dalla banalità del male. Noi cerchiamo di contribuire in questo senso nel nostro campo, quindi nel campo artistico. Questo concerto che vedrà la presenza di Roberto Molinelli, nostro direttore per l'innovazione, si snoda sia in brani direttamente legati alla Shoah, quindi holocausto del compositore pesarese Rizzo Ortolani, sia in brani legati in maniera un po' più ampia al concetto di non dimenticare. Quindi c'è un'Elegia per Manhattan, legata chiaramente all'episodio delle Torri Gemelle, e poi la Leonard Overture, legata a Bernstein, un compositore di origini americane, ma con una famiglia ebrea polacca. Simbolo di tutte quelle persone che sono dovute scappare negli anni in altri luoghi per evitare di essere colpiti da questo banale, come dice Anna Arendt, ma crudelissimo male assoluto. Il dovere di ricordare, il dovere della memoria da tramandare ai giovani. Non a caso, nella stessa mattinata del 27 gennaio, lo sperimentale avvierà anche l'edizione 2023 della Scuola Va Teatro. Progetto portato avanti dall'Orchestra Sinfonica Rossini, che coinvolgerà 4.000 studenti dalla Scuola dell'infanzia alle superiori. Siamo alla quindicesima edizione quest'anno, realizzeremo 4 concerti doppi, quindi 8 concerti, la maggior parte a Pesaro, e ci siamo allargati anche al Comune di Fano, al Teatro della Fortuna, realizzeremo uno dei concerti. È un progetto, uno dei più longevi, quindi di più successo dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Abbiamo iniziato 15 anni fa coinvolgendo una scuola, facendo un concerto, siamo arrivati nel 2020 ad avere oltre 6.000 prenotazioni. Poi, per le note vicende, non abbiamo realizzato il progetto a pieno, abbiamo fatto solo i concerti di gennaio 2020. Quest'anno siamo quasi rientrati nei ranghi e abbiamo avuto oltre 4.000 adesioni, quindi siamo orgogliosi del fatto che l'Orchestra riesce a offrire un prodotto didattico, artistico, importante, di gradimento degli istituti. Parteciperanno oltre 30 istituti comprensivi per una cinquantina di scuole, dalla Regione Marche, quindi non solo Comune e Provincia di Pesaro, ma da tutta la Regione Marche e anche dall'Emilia Romagna.